Re Otor Re Otor era il sovrano del castello. Durante il suo regno non era mai scoppiata una guerra. Egli, infatti, era molto pigro e considerava faticoso armarsi e andare in battaglia. Di questo fatto erano contenti i suoi sudditi che ormai da tanti anni vivevano in pace con gli abitanti del vicino castello di Torrebianca. Il sovrano era grasso e pacioccone. La cosa che gli piaceva di più era la cioccolata in tazza. Il cuoco di corte si era specializzato nella preparazione di questa bevanda e teneva grandi scorte di polvere di cacao nella dispensa. La preoccupazione più grande del sovrano era quella di far passare il tempo. Egli, infatti, si annoiava perché non sapeva che cosa fare. Tutte le persone che lo circondavano avevano qualche occupazione. Lui, invece, se ne stava tutto il giorno seduto sul trono senza fare niente. Dato che non gli piaceva muoversi, cercava di tenere occupata la mente con qualche pensiero. Per esempio, osservava il volo di una mosca e immaginava di essere al suo posto. Ma dopo un po' diventava faticoso anche questo esercizio, per cui smetteva di pensare e si consolava bevendo la sua amata cioccolata. Un giorno accadde un fatto insolito e per un po' di tempo niente fu come prima.